Tre motivi per cui fare NFT, dei grandi capolavori della storia dell'arte, non ha molto senso. Il primo motivo sono opere in pubblico dominio. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono opere che sono diventate ormai patrimonio culturale dell'umanità. Sono di tutti, sono di nessuno. E quindi qualsiasi attività che cerca di riprivatizzarle non ha molto senso. Ok, poi faccio una piccola notazione. In alcuni casi, se parliamo di beni culturali un po' datati, e quindi tutto ciò che è arrivato prima del 1800, sono opere che un copyright non l'hanno neanche mai visto. Nel senso che non hanno mai avuto una tutela di copyright perché non c'era semplicemente il diritto d'autore, non c'era il copyright. Ok, quindi Michelangelo, non so, Bernini, tutti questi nostri grandi nomi non hanno mai avuto un diritto d'autore, un copyright, sulle riproduzioni delle loro opere. Ok, non esisteva il concetto di riproduzione, probabilmente, ma non esisteva più l'istituto giuridico del diritto d'autore del copyright. Ok, quindi in generale qualsiasi artificio giuridico, tecnologico, che cerchi di tutelare e creare delle limitazioni sulle riproduzioni di queste opere, non ha molto senso. Secondo motivo, visto che, come abbiamo spiegato, non è una questione di copyright, non esiste un diritto d'autore, il fondamento giuridico, la radice giuridica di questa attività sta solo nell'articolo 108 del codice beni culturali, ovviamente per quanto riguarda la legislazione italiana. È una norma un po' particolare e anche già molto criticata, che riserva ai musei, alle sovrintendenze, in generale agli enti pubblici che hanno in custodia e in tutela i beni culturali, di chiedere dei compensi per le riproduzioni di questi beni culturali. Ok? Se andate a leggere la norma, l'articolo 108 del codice beni culturali, capite, c'è una serie di eccezioni per cui, insomma, il privato cittadino può anche, come dire, non preoccuparsene, però per gli usi commerciali bisogna chiedere una preventiva autorizzazione e versare dei compensi. Anche, appunto, se parliamo di opere che sono fuori dal diritto d'autore storicamente. Sicuramente questa norma, come vi dicevo, molto criticata, trovate alcuni miei video, alcuni miei articoli, lezioni varie in cui ho spiegato perché è una norma, insomma, che andrebbe rivista, ma negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, non è solo criticata dal punto di vista teorico, è anche palesemente in contrasto con un articolo della nuova direttiva europea sul coperite, della direttiva 790-790 del 2019, l'articolo 14, che dice chiaramente che le opere dell'arte figurativa, che vengono poi fotografate e riprodotte, come dire, devono rimanere in pubblico dominio anche nelle loro riproduzioni, quindi non bisogna aggiungere un livello, uno strato di copyright facendone fotografie, facendone riproduzioni, quindi anche le riproduzioni, se l'opera sottostante è in pubblico dominio, devono a loro volta rimanere in pubblico dominio. E quindi questo articolo 108 va abbastanza in contraddizione, però il nostro legislatore ha scelto di lasciarlo e adesso siamo in una fase un po' particolare perché bisogna capire se questa norma verrà o meno mantenuta o se cadrà di fronte ad una prova giudiziale, cioè se qualche giudice deciderà di disapplicarla perché è in contrasto con l'articolo 14 della direttiva. Terzo motivo, quasi sempre queste attività di realizzazione degli NFT e di messa in commercio poi degli NFT non vengono realizzate davvero dai musei, direttamente dai musei o direttamente dagli enti pubblici, ma vengono realizzate da aziende private che stipulano una convenzione, attivano una collaborazione con i musei e enti pubblici. Queste aziende ovviamente da un lato si trattengono una percentuale per la commissione per l'attività svolta e dall'altro lato poi sono loro ad avere l'effettivo controllo dell'NFT, di come si diffonde l'NFT. E quindi tra l'altro alcune di queste sono anche estere, noi abbiamo una norma che riserva agli enti pubblici italiani questo diritto di riproduzione, questo diritto a chiedere un compenso per le riproduzioni diciamo basato sul fatto che noi abbiamo un patrimonio molto ricco, molto prezioso e quindi dobbiamo cercare il più possibile di conservarlo, tutelarlo, di evitare che qualcuno ne faccia degli sfruttamenti commerciali in debiti e poi se realizziamo queste convenzioni con aziende esterne, con aziende, appunto società commerciali che poi a volte sono proprio estere, hanno la sede in altri paesi e quindi portano fuori capitali e ricchezza sfruttando il nostro patrimonio culturale e artistico fuori dall'Italia. Nel caso del Tondodoni, come esempio, diciamo che appunto è stata realizzata una riproduzione, un NFT da parte di una società in quel caso mi sembra una società forse italiana, però la percentuale che si tratteneva a questa società era del 50% vuol dire che dalla vendita dell'NFT metà degli introiti andavano al museo ma l'altra metà rimanevano nelle casse di questa società che è una società appunto commerciale. E quindi questo ci riconferma ciò che abbiamo detto nel motivo numero uno, ovvero che fare questa attività di NFT e di commercializzazione degli NFT è sempre comunque un'attività di riprivatizzazione di qualcosa che in realtà è di pubblico dominio e quindi deve essere di tutti. Chiaro? Quindi se ripercorrete questi tre motivi dobbiamo porci l'interrogativo. Siamo sicuri che questo sia davvero il modo per promuovere, conservare, tutelare il nostro patrimonio artistico e culturale preziosissimo? Lascio a voi la risposta e la riflessione. Ciao a tutti, grazie, alla prossima.